Allora, vedete alle vostre spalle? Cos'è quello? Un castello, benissimo. Sai dov'è questo castello? A Parma? No, non è a Parma. Però, Parma, è quasi uguale il nome, è a Cardiff. Dov'è Cardiff? Ai 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 ai, il burgo è impreparato. È il Galles, perfetto, è un bellissimo pezzo, è una melodia popolare gallese, appunto, che è, mi dicevano quando l'ho proposta a Marco, mi hanno detto, comunque io ho un pezzo da fare tutti insieme, glielo ho proposto e me l'hanno praticamente risputato indietro, dice, no ma è brutto, è noioso, in realtà sentirete un pezzo che spacca veramente. No, no, adesso perché? Adesso lui c'è in mano la banchetta e lo dirige lui e farà di tutto per farlo andare male, ma vedrete alla fine che vi sembrerà di essere là, sulla bandiera, proprio fresissimi dal brano. Ci penso io, ci penso. Va bene, allora, Cardiff Castle. Ma poi c'è l'applausometro, eh? Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.